La cultura non è soltanto miti, tradizioni o una storia già scritta. L'opera di un grande artista, uno spettacolo acclamato, un film premiato. La cultura non è solo questo. Così come un'isola non vive solo d'estate, non è solo una terra baciata dal sole, cullata dalle onde, un punto di arrivo. L'isola non è soltanto un luogo originario o uno sperduto altrove. Per noi, l'isola è le mani e gli occhi della sua gente, forgiata dall'intensità di tutti i mari. È quell'accoglienza che ti avvolge sin dal primo approdo, che ti induce a tornare, ma ti incoraggia a ripartire, sempre, spingendoti oltre. Perché un'isola è un ponte con ogni mondo possibile, un mare di diversità che si estende all'infinito. Sull'isola, la cultura diventa la scelta di come stare al mondo, di una nuova identità da costruire insieme. La cultura sull'isola diventa lo sguardo della comunità, posato su un orizzonte capace di contenere ogni progresso. Con la cultura, tutti i paesi smettono di essere così lontani, perché la cultura non isola. La cultura, tutti i paesi smettono di essere così lontani, perché la cultura non isola.